Si possono fare delle presentazioni degli ebook? Certo che si possono fare, un esempio lo potrete avere se vi troverete a passare da Milano venendo mercoledì 20 di aprile al Tibistro di Umberto Vezzoli al ristorante del grande chef Umberto Vezzoli per assistere alla presentazione del suo ebook Ricette e Ricordi Collection, un ebook che nello stile di Simonelli Editore può diventare anche cartaceo, ovvero per gli ebook di Simonelli Editore c'è molto spesso, ed in questo caso c'è, l'opzione di lettura in un volume stampato appositamente, io dico su misura, per chi lo acquista. La procedura è molto semplice, si va su ebooks Italia, si sceglie di avere una copia ex libris, la si ordina e la si paga, immediatamente l'ordine passa allo stampatore e dopo 15 giorni dall'ordine e dal pagamento dell'ordine il libro, ovvero l'ebook in versione volume viene spedito direttamente a chi lo ha acquistato e nel prezzo di vendita sono compresi naturalmente l'iva e le spese di spedizione. Insomma, questo è l'Italian style, l'Italian ebook style di Simonelli Editore. Se siete a Milano il 20, mi raccomando, vediamoci al Tibistro di Umberto Vezzoli, ci sarò anch'io naturalmente, per parlare di questo davvero divertente, utile, simpatico e goloso ebook, ricette e ricordi di Umberto Vezzoli. Il 20, mi raccomando, vediamoci al prossimo episodio,